100 per 12 mesi senza vincolare i risparmi? Con ING è semplicissimo! Apri il conto corrente arancio e accredita lo stipendio. Hai il 4% per 12 mesi sul tuo primo conto arancio. Scegli ING. Corri da Troni! Dal 26 settembre al 16 ottobre, con una spesa minima di 99 euro, presenta la tua carta fan Troni. Ti scontiamo l'IVA su tantissimi prodotti evidenziati. Scopri di più sul nuovo sito troni.it. Troni, non ci sono paragoni. L'autunno mi piace. Cambiano i colori delle foglie, cambia la lunghezza delle giornate. Sono venuto qua in Trentino per seguire quella che è la più grande passione, ossia la montagna. Prego. Ho deciso di partire. Ho attraversato paesaggi incantevoli. E ho fatto tanti viaggi in uno solo. Incontrato il sorriso dei pugliesi. Che è successo? E ho capito che ci si può sentire a casa anche quando si è lontani. Tutti a casa mia. In Puglia ho riscoperto il valore dell'accoglienza. Se vuoi vendere casa vai su rexer.it e richiedi una valutazione gratuita. rexer. Vendiamo casa tua a chi la sogna. Azione! Non ti era più facile vendere una bambina? Adesso che sono una donna. Apri per favore! Ti hai mentito! È un bel casino, eh papà? Io non ti lascio più adesso. Il tempo che ci vuole dal 26 settembre al cinema. Da sempre ci prendiamo cura di te con prodotti naturali e biologici. Perché tu meriti un mondo migliore. I Provenzali. Naturale, biologico, sostenibile. E da oggi i Provenzali Benessere. Integratori alimentari senza lattosio. Con un prezzo Aldi Aldi! Questa settimana ad Aldi c'è il sottocosto. Prosciutto cotto light 2 per 100 grammi a 1,49 euro. E caffè classico Splendid a 3,99 euro. Per raggiungere prestazioni straordinarie la volontà non basta. Serve allenamento, determinazione, riposo. Recuperare energia per sfide sempre più grandi. Entra in modalità Dorelan. Dorelan. Dormire bene, vivere meglio. Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu, con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli. Sa di bianco, sa di buono. Quando bevo Rocchetta faccio un gesto che ne vale tre. Mi disseto, mi idrato, mi depuro. Semplice come bere un bicchiere di Rocchetta. Rocchetta è buona, superleggera e depura l'organismo da scorie e liquidi in eccesso, perché stimola la diuresi. E questo fa la differenza. Ecco perché ho scelto Rocchetta. Fa bene il mio corpo giorno dopo giorno. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Perché la vera bellezza viene da dentro. Plim plim. Pensi che riuscirai a farmi piacere il cioccolato fondente? Certo. Ma non è troppo amaro? Non questo cioccolato. Ma è buonissimo. Te l'avevo detto che mi sarebbe piaciuto. Dai Maitre Chocolatier. L'Intexcellence. Scopri il piacere del fondente. Einstein. Parisi. Curie. Montalcini. I Nobel della scienza. Una straordinaria collana per rivivere le scoperte che hanno fatto la storia. Il primo volume Watson e Crick in edicola con Repubblica o le scienze. Non mi piace. C'è ancora molto da scoprire. E questo mese potete avere uno sconto esclusivo di 2000 euro sulle nostre cucine. A-A-R-Dissima. Capsule a base di carta, completamente compostabili. Ah sì? Oh no, i miei cavi! Ehi, fermi! Grazie mille. Caffè? What else? What else? Sono compostabili. E sempre con quel gusto indimenticabile. What else? Butta l'è nell'organico. Nespresso. What else? Seguo il mio istinto. Qui tutto è puro. È la natura che mi guida. Acqua Valmora. La fonte della tua natura. Nuovo Dacia Duster. Vieni a provarlo in concessionaria e scopri l'offerta di lancio. Entra nell'onda croccante Bottoli. Bottoli. Bontà che fa croc. Nuovo Honda ZRW Full Hybrid. Fino a mille chilometri con un piede. 184 cavalli di pura potenza. Scopri il crossover ibrido sportivo. Da 195 euro al mese con 7400 euro di eco-incentivi Honda e fino a 8 anni di garanzia. Bella mossa. Ups, un po' meno. Per fortuna ha Allianz Direct. Un'ottima assicurazione auto. Fai un preventivo. Per te 15% di sconto sull'assistenza stradale. Pubblicità. Prima della sottoscrizione legge il set informativo sul sito. Buonasera. Corrado Augias conduce La Torre di Babele. Il caso Ciano. Ospiti Giordano Bruno Guerri. E Michela Ponzani. Lunedì alle 21.15. Sulla 7. Naso chiuso a causa di virus e batteri. Per non rinunciare a stare bene con gli altri puoi provare l'acqua di mare di Rinazzina Acquamarina con formulazione ipertonica. In un gesto tre azioni. Le congestiona, idrata la mucosa e aiuta a rimuovere virus e batteri. Rinazzina Acquamarina. Nuovi intrecci Mulino Bianco. Con pasta frolla integrale unita a una frolla al cacao. Con gocce di cioccolato. L'incontro che mette tutti d'accordo. Mulino Bianco. C'è un mondo più buono. Per Subaru la libertà non è un optional. Nemmeno la sicurezza. E neanche il comfort. Ecco perché sulla nuova Subaru Crosstrek tutto questo è di serie. Da 29.900 euro. Solo fino al 31 ottobre. Subaru. La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per lana deterge e rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi. dopo soli dieci lavaggi. Nuovo. No. Lavato con per lana. Per lana rinnova tutti i tuoi capi. Non solo quelli in lana. Sono arrivati in Carrefour. Sono ovunque. I Looney Tunes hanno invaso Carrefour. Vieni a prenderli tutti. Ti do i bollini. Bella vista. Bella anche la cornice. Una finestra è una finestra. Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili che danno più luce. Vedo. La maniglia centrale è davvero elegante. Sì. Bella. Le bollette sono molto più leggere e puoi approfittare delle detrazioni fiscali. A tutta la burocrazia ci pensano i premium partner Ocnoplast. Un pezzo di design al prezzo di una finestra. La sensibilità dentale porta spesso le persone a cambiare le proprie abitudini, come togliere il ghiaccio dalle bevande. Ma non è necessario. Basta semplicemente usare i prodotti giusti. Sensodyne protegge dalla sensibilità dentale e regala una sensazione di freschezza. Io raccomando Sensodyne perché funziona. Problemi di sonno? Dall'Angelica finalmente la melatonina istantanea. Film linguale che si scioglie in bocca e agisce presto. Portala con te. Melatonina istantanea dell'Angelica. Per lunghi sonni sereni. Dall'Angelica. Se ti va di stare bene. Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Buffer croccante ricoperto da cioccolato bianco. Con crema alla nocciola. Kinder Bueno White. Irresistibile. Compatti. Leggeri. E comodissimi. Per accompagnare la crescita del tuo bambino fin dalla nascita. Ideati per soddisfare le esigenze di tutte le famiglie. Sicuramente Foppa Pedretti. Dalla natura della Mongolia. Kashmir Ultrafine. Naturale. Morbido. Leggero. Quattro stagioni. Falconeri. Puro Kashmir. Bruno. Goditi il viaggio e lascia il caos fuori. Controlla ogni angolo con la telecamera a 360 gradi. Rilassati lungo il percorso con la ricarica wireless e il sistema audio B&O. E rimani connesso con il touchscreen sync da 12 pollici. L'autunno mi piace, cambiano i colori delle foglie, cambia la lunghezza delle giornate. Sono Antonio Prestini, nato a Milano e di professione faccio il medico. Sono venuto qua in Trentino per seguire quella che è la più grande passione, ossia la montagna. La mia casa dista tre minuti dalla falesia più vicina, tre minuti a piedi. Crema Novi Con il 45% di noccioli e solo 5 ingredienti Oh, guardate! Provala, no? È Novi Valerio, 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 sto qua, dai Mi servirebbe qualcosa di più smart che mi permetta anche di risparmiare sulle tasse della mia azienda, che dici? L'ha fatta Eden Red, per aziende e liberi professionisti. Ticket restaurant è la soluzione geniale per la deduzione fiscale. Quando è stata l'ultima volta che ti sei innamorato? Dovresti provarla. Nuova Alfa Romeo Junior Learn to love again Nuova Alfa Romeo Junior Ibrida Da 250 euro al mese Scopri anche l'elettrica su alfaromeo.it Ha proprio detto, tu che gli hai detto? Eh, io ho detto, se proprio c'è tieni, va c'è dentro. Scusate, pronto sono Flavio, Famiglia d'Italia, come posso esserle utile? Signora mi dica, siete cinque dalla Sicilia, benissimo, venite a giocare. Siete una famiglia di pasticceri? Beh, a sto punto portate una sette veli, sulla sette dal 7 ottobre. Anche grande mi dicono, anche otto veli, nove veli. Vi aspettiamo sulla sette dal 7 ottobre. Famiglia d'Italia, si può assaggiare il ciambellone? Flavio Insinna conduce Famiglia d'Italia. Dal 7 ottobre alle 18.30, sulla sette. Yakult è buono. Ma sai cosa fa la differenza? Sono i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. 50 anni di storia, 50 anni di storia. Nuova Golf, tua da 23.500 euro con incentivi statali. Scoprila anche ibrida, con oltre 140 chilometri di autonomia in elettrico. Anche sabato e domenica. Volkswagen. Scopri la nuova coloratissima collezione Funko Pop Jurassic World con Kinder Joy. Per i tuoi ragazzi, doppia crema, latte e cacao. Due palline croccanti e un gusto unico. Solo in Kinder Joy. Ma chi è che c'è da boss? Head & Shoulders. Uno sapeva che c'avevi la forfora. Non ce l'ho. La prevengo. Nuovo Head & Shoulders, ora con doppia protezione. Rimuove la forfora e ne previene la ricomparsa. Head & Shoulders. Fino al 100% protezione dalla forfora. Seguo il mio istinto. Qui tutto è puro. È la natura che mi guida. Acqua Valmora. La fonte della tua natura. Non mi piace. C'è ancora molto da scoprire. Questa sì, mi piace. E questo mese potete avere uno sconto esclusivo di 2.000 euro sulle nostre cucine. Ah, 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 redissima. Con prezzo Aldi Aldi. Questa settimana ad Aldi c'è il sottocosto. Prosciutto cotto light 2 per 100 grammi a 1,49 euro. E caffè classico Splendid a 3,99 euro. Sono igienista dentale e mamma. Per i suoi dentini scelgo Biorepare. Biorepare Junior e Bimbi sono senza fluoro. E con i microreper proteggono i loro dentini dalle care, rendendoli più forti. Io consiglio Biorepare Junior e Bimbi. A settembre prenota il check-up gratuito dello smalto dei più piccoli. Su Biorepare.it Quando è stata l'ultima volta che ti sei innamorato? Dovresti provarla. Nuova Alfa Romeo Junior. Learn to love again. Nuova Alfa Romeo Junior ibrida. Da 250 euro al mese. Scopri anche l'elettrica su alfaromeo.it Hai il diabete? Sai come il cibo influisce sulla tua glicemia? Con Frista e Libre 2 puoi sapere in ogni momento il valore e l'andamento del glucosio con letture in tempo reale direttamente sul tuo cellulare. Anche senza pungerti. Gestisci il tuo diabete consapevolmente. Richiedi un sensore gratuito e scopri i criteri di rimborsabilità previsti dalla tua regione. Come ti senti quando hai 3% a scadenza sul conto deposito? Quello che senti, noi lo chiamiamo Well Banking. Se non sei cliente, attivalo anche online dopo aver aperto Credem Link. Credem, Well Banking People. Il best dello spicy che blaster tu besti è Spicy special, sì, special spices Spicy chicken McNuggets La tua lingua non sarà più la stessa. Pa-ra-pa-pa-pa Lo sport lo insegna Agilità Versatilità Nova Swift Hybrid Compatta, ibrida e anche 4x4 Tua a 15.900 euro Tutto di serie senza sorprese La serata di La Sette è stata offerta da Arredo tre cucine uniche come chi le sceglie Lecia è con tutte le donne che non hanno paura di alzare la mano E che non smettono mai di inseguire i propri sogni Lecia è sempre al tuo fianco con deodoranti che ti proteggono fino a 48 ore Per farti sentire sicura di te Lecia, amica del tuo benessere Scopri il nuovo Lecia Girl Il primo deodorante dedicato alle giovanissime Testato sotto controllo pediatrico Il prossimo 5 novembre si deciderà il vincitore della corsa alla presidenza degli Stati Uniti Ne parliamo in una puntata speciale di inchieste da fermo Con ospiti in studio e testimonianze dagli States Speciale inchieste da fermo Mercoledì 2 ottobre alle 21.15 Sulla 7 Beh immagino sia tutto allora Papi perché non prendi le mie chiavi e ti fai un giro Ti voglio bene Ciao Stella Quindi parli Caffè? Perché non? Un matcha per Stella? Quasi Blu acceso Audace Clem? Sì Sai chi sono io? Antonio Banderas? Chi? In effetti ho fame Il tuo preferito, eh? Come lo sapevi Mi chiamo Monica E questa è la mia storia La biologia marina è sempre stata il mio sogno Con Saugella Acti 3 consigliata dal mio ginecologo Mi sento protetta a lungo dai fastidi intimi Il rispetto che ho per la diversità del nostro mondo è lo stesso che ho per la mia intimità Femminile singolare Saugella Consigliata dal ginecologo Da Euronics c'è Blackstar Offerte stellari su tutta la tecnologia che desideri Samsung Galaxy A25 5G a soli 199 euro Euronics Un mondo più avanti Borotal con uomo Presenta Nuovo Borotal con uomo Abbraccia la vita Galleggiare e dormire hanno qualcosa in comune Immersa nel sonno o nell'acqua Mi rigenero Entra in modalità Dorelan Dorelan Dormire bene Vivere meglio Pulire punti irraggiungibili Non fare strane acrobazie Oggi il tuo sgrassatore universale Chantecler funziona anche sotto sopra Lo usi su tutto Funziona dappertutto E per la pulizia e l'igiene del tuo bagno Scopri l'efficacia dei nuovi Chantecler anticalcare e Vici Schiuma Attiva Chantecler il gallo del pulito Internet Wi-Fi a partire da 18,99 euro al mese È possibile con IREN Internet Wi-Fi senza limiti di traffico Zero costi iniziali di attivazione Se avere tutto non ti sembra possibile È perché ancora non hai scelto IREN Scopri tutte le offerte su IRENLUCEGAS.IT Corri da Troni Dal 26 settembre al 16 ottobre Con una spesa minima di 99 euro Presenta la tua carta fan Troni Ti scontiamo l'IVA su tantissimi prodotti evidenziati Scopri di più sul nuovo sito Troni.IT Troni Non ci sono paragoni Goditi il viaggio e lascia il caos fuori Controlla ogni angolo con la telecamera a 360 gradi Rilassati lungo il percorso con la ricarica wireless e il sistema audio B&O E rimani connesso con il touchscreen sync da 12 pollici Nuova pluma Hybrid Tu ha 139 euro al mese Vieni a scoprirla negli showroom Ford anche sabato e domenica Quando il mal di testa ti butta giù Puoi provare Occhi Tasche sulla testa Con una formula rilascio rapido Occhi Tasche può iniziare ad agire dopo 5 minuti E ha un doppio effetto Antidolorifico e antinfiammatorio Contro il mal di testa Sulla testa Con Occhi Tasche Questo programma è presentato da Lo sport lo insegna Agilità Versatilità Nuova Swift Hybrid Compatta Ibrida E anche 4x4 Tua a 15.900 euro Tutto di serie senza sorprese Seguo il mio istinto Qui tutto è puro È la natura che mi guida Acqua Valmora La fonte della tua natura In esclusiva sulla 7 La Rosn Saudi League Banco di prova per la neopromossa Nello scontro con i veterani Kessi e Ibanez Al Qadisiya Al Ahli Oggi In seconda serata In esclusiva Sulla 7 E la 7 Per nutrire il sistema immunitario Io uso Resvis Forte Con Resveratrolo E Lattoferrina Grazie all'alto dosaggio Di vitamina A C e Zinco Resvis Forte Nutre il sistema immunitario Resvis Forte Nutri il tuo sistema immunitario E per i più piccoli C'è Resvis Junior Specifico per nutrire Il sistema immunitario Con prezzo Aldi Aldini Questa settimana ad Aldi C'è il sottocosto Prosciutto cotto light 2 per 100 grammi A 1,49 euro E caffè classico splendid A 3,99 euro Turututurututu Michelin Porta l'innovazione Su ogni strada E ben oltre Producendo cinturini Per protesi Che consentono Una maggiore flessibilità Di movimento Passo dopo passo Michelin Motion for Life Liberati dallo stress Supera la stanchezza Chiedi Magnesio Completo Principium Magnesio da 4 fonti organiche E inorganiche Per ritrovare la serenità Principium Chiedi l'eccellenza alla natura da Biosline A volte per cambiare il modo di vedere le cose basta davvero poco Pavesini, il lato leggero della vita Fotovoltaico tutto incluso? È possibile con Miran Il tuo nuovo impianto fotovoltaico tutto incluso a partire da 4.690 euro Se avere tutto non ti sembra possibile è perché ancora non hai scelto IREN Scopri tutte le offerte su irenlucegas.it o chiamalo 896 96 96 Activia, buongiorno microbiota intestinale Prova Activia Kefir, l'unico con autentici lieviti e 4 miliardi di probiotico Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio Prendersi cura della miopia è importante fin da giovani Puoi provare le lenti da vista a Mayo Smart di OIA Grazie alla tecnologia DIMS correggono la miopia e possono rallentarne la progressione Indicate per ragazzi tra i 6 e i 18 anni Sono adatte a uno stile di vita dinamico Così loro possono spingersi sempre più avanti e guardare al futuro Chiedi informazioni su Mayo Smart al medico oculista e provale nei centri ottici Giappone d'autore, il meglio della narrativa contemporanea In una collana di romanzi dallo stile intimo e poetico Capaci di raccontare il senso della vita con magica semplicità Il primo volume, 108 rintocchi, è in edicola Scegli di distinguerti Toyota CHR Hybrid Ogni scelta conta Da 29.950 euro per tutti In più fino a 3.000 euro di bonus in caso di rottamazione Grazie agli eco-incentivi statali Mercoledì prova un brivido di gioia quando c'è un mistero da risolvere Ma a volte ha bisogno di una... mano A semplificare la vita a mercoledì ci pensa mano A dare una mano a te ci pensa Win3 Vivi tutto l'intrattenimento di Netflix Con la velocità e affidabilità del Wi-Fi Win3 A soli 28,99 euro al mese Vieni nei Win3 Store Ti aspettiamo Win3 semplifica Connessioni, energia, assicurazioni Mela, mela, mangio Ancora, ancora Mela, mela Mela mil? Per aiutare a ridurre il tempo per prendere sonno C'è Mela Mil di umana Mela Mil, addormentarsi da favola Da Euronics c'è Black Star Offerte stellari su tutta la tecnologia che desideri Samsung Galaxy A25 5G a soli 199 euro Euronics, un mondo più avanti Che ne dici? Ma non staremo correndo troppo? Amo la velocità Ami la velocità di Iliad Scegli Iliad anche a casa La fibra premiata da Imperfe come la più veloce d'Italia E dal 2024 con tecnologia Wi-Fi 7 Entrare per credere Capsule a base di carta, completamente compostabili Ah sì? Oh no, i miei cavi! Ehi, fermi! Grazie mille Caffè? What else? Sono compostabili E sempre con quel gusto indimenticabile What else? Buttale nell'organico Nespresso What else? Questo programma è stato presentato da Lo sport lo insegna Agilità Versatilità Nova Swift Hybrid Compatta, ibrida E anche 4x4 Tua a 15.900 euro Tutto di serie senza sorprese Licia è con tutte le donne Che non hanno paura di alzare la mano E che non smettono mai di inseguire i propri sogni Licia è sempre al tuo fianco Con deodoranti che ti proteggono fino a 48 ore Per farti sentire sicura di te Licia, amica del tuo benessere Scopri il nuovo Licia Girl Il primo deodorante dedicato alle giovanissime Testato sotto controllo pediatrico Anche noi abbiamo le ali Sono ali mosse dalla passione Ogni volta che ci apriamo alla vita Matt, nutre il tuo benessere Che ne dici? Ma non staremo correndo troppo Amo la velocità Amo la velocità di Iliad Scegli Iliad anche a casa La fibra premiata da Imperf come la più veloce d'Italia E dal 2024 con tecnologia Wi-Fi 7 Entrare per credere Scegli il vero ibrido Toyota Scegli di distinguerti Toyota CHR Hybrid Ogni scelta conta Da 29.950 euro per tutti In più fino a 3.000 euro di bonus In caso di rottamazione Grazie agli ecoincentivi statali Disturbi gengivali? Puoi provare Parodontax Aiuta a riparare le gengive a partire dalla prima settimana Parodontax Esperto delle gengive Le norme uni sono ovunque nella nostra vita Da 100 anni ci aiutano a vivere in un mondo più sicuro Più sostenibile E anche più bello Uni Un mondo fatto bene 4% per 12 mesi senza vincolare i risparmi Per non lasciartelo sfuggire Saresti disposto a tutto Anche ad andare a cavallo all'indietro Fare immersioni con la maschera di carnevale O leggere il giornale al bagno turco Con ING è tutto più semplice Apri il conto corrente arancio E credita lo stipendio Hai il 4% per 12 mesi sul tuo primo conto arancio Scegli ING Scegli ING è tutto più semplice Scegli ING è tutto più semplice Scegli ING è tutto più semplice I mal di testa non sono tutti uguali Quando ti opprime puoi provare Moment 200 Quando è forte Moment Act Analgesico Se è mal di testa da cervicale Moment Hold Per il mal di testa da congestione nasale Moment Xin E per il mal di testa e dolori da ciclo Moment nella confezione rosa Moment spegne i mal di testa da Angelini Pharma Per raggiungere prestazioni straordinarie La volontà non basta Serve allenamento, determinazione, riposo Recuperare energia per sfide sempre più grandi Entra in modalità Dorelan Dorelan Dormire bene Vivere meglio Pulire punti irraggiungibili Non fare strane acrobazie Oggi il tuo sgrassatore universale Chantecler Funziona anche sotto sopra Lo usi su tutto Funziona dappertutto Ti pulisce più di Chantecler E per la pulizia e l'igiene del tuo bagno Scopri l'efficacia dei nuovi Chantecler anticalcare E Vici Schiuma Attiva Ti pulisce più di Chantecler Chantecler Il gallo del pulito Liberati dallo stress Supera la stanchezza Chiedi Magnesio completo Principium Magnesio da quattro fonti organiche e inorganiche Per ritrovare la serenità Principium Chiedi l'eccellenza alla natura Da Biosline Scegli Era Con l'acquisto della nuova caldaia Hai in omaggio l'assistenza guasti per gli impianti acqua, luce o gas Così sei efficiente ma anche più sicuro Chiama l'800-900-160 Incredibile quello che possiamo fare insieme Sperimenta una nuova dimensione di investimento Acquista criptovalute sulla piattaforma scelta da oltre 5 milioni di clienti Se cripto, allora Bitpanda Nuova Cupra Formentor Hybrid Tua da 245 euro al mese TAN 595 TAIG 714 Sceglila anche nella gamma plug-in hybrid Con incentivi Cupra Prenditi il tempo per goderti il tuo tempo G-Mare Mediterraneo per natura Nuovo Honda ZRW Full Hybrid Fino a mille chilometri con un piede 184 cavalli di pura potenza Scopri il crossover ibrido sportivo Da 195 euro al mese Con 7400 euro di eco-incentivi Honda E fino a 8 anni di garanzia Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo Sta arrivando aria un pochettino più fresca sull'Italia Ce ne accorgeremo soprattutto domenica Correnti settentrionali che porteranno anche un po' di varia vita Sulle regioni adriatiche al sud E proprio per quanto riguarda domenica In realtà non mancheranno ampie zone di sereno Qualche nuvole, qualche piovasco sul medio adriatico e sul basso tireno Però anche temperature in calo Per i dettagli aggiornato scaricate l'app di Trevi Meteo Grazie a tutti Grazie a tutti